Niente cordoli, niente asfalto liscio, niente bandiere a scacchi o anzi a da semaforo verde, il circuito stavolta diventa Piazza Mazzini a Lecce grazie all'Automobile Club Lecce che propone una tappa delle nove complessive in tutta Italia della prestigiosa manifestazione Karting in Piazza 2023. Karting in Piazza è un evento nazionale dove l'Automobile Club Lecce è stata pioniera perché dieci anni fa venne all'allora presidente Jean Todd a fare la prima tappa nazionale e crediamo che in questo format noi riusciamo a coniugare perfettamente la parte teorica in cui spieghiamo ai ragazzi le dieci regole d'oro della federazione internazionale e poi c'è una parte anche pratica dove loro si possono dilettare con l'utilizzo di carte elettrici. Un minicircuito, esperti piloti nelle vesti di istruttori e carte elettrici per insegnare un'adeguata sicurezza stradale e come si guida, occasione anche per far conoscere i mezzi di soccorso e lo straordinario lavoro di chi opera sulle ambulanze. Il programma della manifestazione prevede dieci turni da 30 bambini ciascuno nella mattinata e nel pomeriggio sotto la direzione di esperti tecnici nazionali. Insieme a Laci abbiamo pensato di parlare di sicurezza stradale sin dall'età più tenere cioè anche i ragazzi di quarta e quinta elementare, bambini ancora, possono recepire dei messaggi semplici ma importanti anche per la salvaguardia della vita. Il più classico non si guida con il telefonino, le cinture di sicurezza vanno sempre allacciate, il seggiolino per il fratellino va sempre utilizzato. Sono piccoli messaggi che sono fondamentali e che vanno lanciati nell'età giusta perché devono rimanere impressi nella memoria come degli automatismi. La manifestazione si colloca nel solco della campagna internazionale per la sicurezza stradale denominata FIA Action for Road Safety con testimonial piloti, professionisti di varie categorie. Molti di loro probabilmente hanno questo sogno nel cassetto, tu questo sogno lo stai accarezzando e vivendo in Ferrari. Cosa ti senti di dire a loro? Come hai detto tu, lo sto cercando di realizzare passo dopo passo. Anch'io sono partito, bambino come loro, a guidare i kart e poi piano piano, passo dopo passo, siamo riusciti ad arrivare fino ad oggi a guidare la Ferrari. Quindi si sta realizzando, il messaggio che gli dico a loro è che se tengono un sogno importante dentro con dei sacrifici e degli obiettivi si riescono a raggiungere.